Ponti tibetani in Italia. A Sasso di Castalda ce n'è uno, il ponte alla Luna, dedicato a Rocco Petrone, l'uomo che il 16 luglio 1969 diede il go all'Apollo 11. Ebbene sì, i suoi genitori erano proprio di queste parti. Antonio e Teresa, genitori di Rocco Petrone, erano di Sasso di Castalda. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Tra i 100 metri di lunghezza, tra i 102 metri di altezza. Grazie a tutti.